La Lenti è dal 1935 che segue proprio questa specializzazione in prosciutti cotti e salumi cotti. In tutto il processo produttivo, quindi dalla selezione accurata della materia prima, ma non soltanto una volta che la riceviamo, ma selezione a monte dei nostri fornitori, quindi un'attenta analisi dei fornitori da cui ci serviamo costantemente e poi l'analisi ogni giorno che ci arriva la merce di quello che andiamo a scaricare con dei controlli qualitativi sulla materia prima e poi un controllo su tutto il processo produttivo, quindi il lotto viene seguito durante tutto il processo. Importante per noi è anche proprio la ricetta con cui facciamo i nostri prodotti perché dal 2004 che siamo certificati senza glutine, senza lattosio e caseinati, senza ingredienti OGM, i nostri cosciutti cotti alta qualità e scelti hanno anche un basso contenuto di sale, non utilizziamo i polifosfati e il glutamato aggiunti proprio per cercare di valorizzare la ricetta e la materia prima tutelando anche quelle che sono le caratteristiche che interessano ai consumatori da un punto di vista anche salutistico. Quest'anno facciamo 80 anni, 80 anni in azienda è un bellissimo traguardo per noi e abbiamo intenzione di festeggiarlo soprattutto con la nostra città d'origine con Torino, abbiamo fatto una campagna di affissione che ripeteremo Torino da mangiare proprio per promuovere un po' questo legame di Torino con l'enogastronomia piemontese e Torino come città del prosciutto cotto. Infatti l'immagine rappresenta una mole fatta di parmigiano e con le nostre fette di prosciutto cotto. Quest'anno ci saranno molti appuntamenti dove i torinesi avranno la possibilità di assaggiare il prosciutto lenti da vari branch organizzati in caffè e bar storici a aperitivi e altri appuntamenti nel corso dell'anno nella città.